Nell'ambito delle iniziative della regione Campania per la giornata della memoria, la sala conferenze dell'ospedale pediatrico Santo Bono è stata intitolata al piccolo Sergio De Simone, unico bambino napoletano deportato ad Auschwitz. Alla cerimonia hanno partecipato il consigliere del presidente alla sanità Enrico Cosciuni, il direttore generale del Santo Bono Anna Maria Minicucci ed i direttori generali degli ospedali pediatrici italiani. Tutti i presenti non hanno trattenuto la commozione e hanno lungamente applaudito in piedi dopo il racconto che della storia di Sergio ha fatto il fratello Mario De Simone. Per noi è sicuramente una cosa importantissima soprattutto perché non accada più in futuro e quindi come dicevo oggi bisogna capire che cosa è stata la Shoah, insegnarla e studiarla per capire l'unicità della Shoah rispetto a tanti altri fenomeni. Il ricordare è fondamentale, fondamentale per la coscienza dell'umanità e soprattutto per i giovani, coloro che forse non avendo vissuto il dramma della Shoah alle volte sentono solo raccontare e fare memoria, memoria viva, reale di episodi così disumani come quello capitato a Sergio De Simone significa imparare a vivere con quei valori che sono fondamentali per la crescita umana e sociale delle persone e perché appunto non si ripeta mai più un opprobrio come quello che è capitato. Il nostro paese sta facendo pulizia nei suoi ricordi e siccome c'è ancora qualcuno che afferma che il fascismo è stata una specie di villeggiatura e beh non lo è stato e anche noi abbiamo partecipato ampiamente a delle cose molto brutte che solo dando questi segnali riusciamo a fare pulizia e quindi a cambiare anche il nostro futuro. E questo è l'altro elemento importante di queste commemorazioni, di questi ricordi che non devono essere un fatto burocratico così ma devono servire proprio a questo, a tramandare alle nuove generazioni quello che è stato perché la cosa si può sempre ripresentare in forme diverse ma si può ripresentare e di fatto si ripresenta.